Sì, dove è la gente? Non so se c'è, ho prenduto solo fuori Mi l'ho portato? Non lo so Borgobio, cioè Borgobio stacco non è stato portato, è un miracolo Non è stato portato? No, non c'è, la casa deve essere portato È vero Dopo, se no, si può andare nella casa blu a rifiutare No, prima è l'ampra E poi vado a andare al prossimo No, perché c'è sempre l'ampra C'è l'ampra C'è l'ampra Non c'è l'ampra Cioè io non la uso C'è questo nonno blu Che c'è un tacco vero? Eh no, qui c'è un tacco blu Io c'ho mai un po' di nonno verde Io te la c'è un po' di nonno bianco Qui c'ho un rip Fai un po' di nonno Non lo faccio, vai La parte fermi si è spaccava tutto Ah Thomas, fagli fare anche a tuo zio E? No, non è nulla, nulla Se trovai un nonno, lui, vi do il tac C'è gente? No, no, io sono mio Cosa vai con un nonno verde C'è un po' di mezzo? C'è un po' di mezzo, come ragazzoni Lega, anche qua c'ho rift Sono con noi Pari Con te c'ho già giocato quando hai detto C'è uno con lo skate C'è uno con lo skate Dove ci stanno su uno con lo skate C'è un po' di mezzo 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 Allora, non ti stanno suonare Non si andai da questa parte Ah C'è un po' di mezzo C'è un po' di mezzo Ehi, l'ho distratto, qua, giù, cazzo, da queste altre parti ho distratto Orca puttana Ehi, ma fuori safe adesso Mi ha venuti paura, questi Eccolo qua, è qua, da queste parti, ho visto Una elettrica Oh, qui E' qui, è qui, è qui, è qui, è questa casa Oh, da me Sì, vabbè Aiuto, aiuto Arrivo Ah già Oh, attacco Nooo Minca, c'è la tempesta, non c'ho più vita No, ragazzi, non c'ho più mazzo Minici Eh, io sono morto Si, prendi nelle spalle Dilan, 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 prendimi nelle spalle Vai, sta arrivando, sta arrivando Vai, 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 corri, corri, corri L'hai la connessi? Si Bravo Eh, Thomas, su percorso non posso farlo Ragazzi, la struttura delle costruzioni mega calabra Vai, lasciami Vai, vai, resta, resta Sì Sì Quando? Bravo Ce l'hai le cure? No, no, c'è un cento, ragazzi Ce l'hai C'è giac, giac No, la giù Mi faccio il giac, giac Sì Dilan in Ashi, ti dà un medic 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 Si, ti dà un medic Si, ti dà un medic Ti dà un medic Ma l'ho fatta volendo Ragazzi, se dà un po' di colpi pompa, c'è un 5 Perfavoro Ne ho 9 Si, ti dà un po' di colpi pompa Si Se dà un po' di colpi pompa Cosa? Ragazzi, ne ho 9 Colpi pompa, Ecoli Ragazzi, mi ho riftato Dove? Si Ecco lì Dove? 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 Siamo andati lontani da noi Perché se no ci vediamo venire da noi A me sta con Max Che c'è un po' di massa Io tieni Thomas Io Thomas Io Thomas, vi sto questo po' dottor Quando c'è il ritorno Grazie Vieni, vieni Stai un po' di risposta Se tu ti dà un po' di risposta Grazie Dai, ci riesce Avevi un po' di risposta Grazie Dai, ci riesce non si sa che si va già sta non mi so ci sono l'alto fantastico che ricchile merda andiamo qua su andiamo qua su andiamo qua su andiamo qua su è il punto migliore qui sono più alti più alto prendito la famosa non c'è no no sveletelo sveletelo che vuoi? voglio l'albanese ma chi è nastrino? cazzo sono nastrino sono nastrino sono zio di thomas sono riusciti sono riusciti sono riusciti allora resta sono riusciti sono riusciti non c'è il cammino non c'è il cammino è il cammino è il cammino dove? vai te sali che vai su? vieni è il cammino arrivi si sta qua su è sapete la fattita è sapete la fattita c'è una fetta qui c'è una fetta qui eh ma anche dopo raga una cosa bellissima la finta vanno riusciti 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 oh raga ho il bucacchi ho avuto ho avuto no ok se ci serve dopo se ci serve dopo aspetta la qui aspetta come se non ci sarà il post ci può volare si se ci serve dopo ci sono spostate è c'era una qui lo lanciamo come come io io la fai vogliamo c'entra i su sono è venuto iniziando a metterlo oh che stasso c'è due quattro uno alberi di merda di merda metteranno gli alberi non si può fare non si può fare non si può fare nooo si può fare mancante gli alberi non si può fare guarda come spammano non si può fare non si può fare ma io lo devo ma 90% io spero di essere salita da 77 al 90 da 77 un po' di più che vuol dire ovviò i risultati hai come arena si no lo capirò ai c***o Thomas metti un altro gas pegata per questo ragazzo per questo ragazzo è stato torna la roba e metti la città ma tu ma cosa so io almeno poi puoi affaccare la mia nel lobby un attacco di buona non fa vedere più più so salito sì di 73 e 3 oh stasera giochi si fa con il 20% in duo si fa in duo oppure si fa in uno con gli altri un po' un po' come si fate ragazzo normale o semplice si chiara va andiamola te nesci nesci oh e andare via staschini vale un botto se c'è 50 vale questo me l'hanno da loro quando scariati i giochi questo è il professor che me l'hanno da la marinaia questa questa è anche questa vale di season 2 eh è di season 2 questo è lì penso di sì potrei no no o uno o due ora non mi ricordo te lo dico quando c'è da posti di su pantano quindi questo cazzo si vede c'era della stagioni 2 stagioni 2 quello nero vabbè ciao ma sono qui e te si andiamo a giocare si aspetta ma si fa normale o classificato se vuoi fare facciamo la classificata classificata aspetta metto una skin però che skin c'hai qui? coppie si arriva la serie squadra questo è la skin che trovi stagioni 2 macchina che era l'animica lì nelle ghalzi dove c'è ... ... ...